E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Come sempre, no copione, niente punti iscritti Quindi parlare di Outworld senza essermi iscritto qualcosa O punti di cui parlare sarà difficile Però non mi riesce a scrivere qualcosa, sono sincero, non mi riesce a scrivere qualcosa Però vi parlerò un po' del gioco, un po' delle mie impressioni Non è proprio una recensione, vi parlo un po' del gioco, di quello che si può fare Così voi, con le informazioni che vi darò, potrete decidere Insomma, riuscirete a decidere se è il gioco che fa per voi Allora, Outworld, che cos'è Outworld? È un survival RPG, in un mondo fantasy, quindi ci sono le skill Le mount, no, non ci sono le mount, ve lo dico già da adesso Ma comunque ci sono le skill, quindi puoi fare mago, puoi fare guerriero Puoi fare tutto quello che vuoi in sostanza Perché tutto quello che vuoi? Perché te non scegli una classe Quindi non è come tipo World of Warcraft Ti scegli il guerriero, il mago, eccetera Ma te parti che non hai niente Ti crei te la tua classe andando avanti Quindi puoi fare il paladino Quindi sei un guerriero mago, in poche parole Quindi sei più guerriero, però hai anche abilità da mago Magari alcune abilità che fanno unione con quelle da guerriero che avete Quindi siete dei paladini O se no puoi fare il mago puro O puoi fare il guerriero puro Ci sono ovviamente le armature e armi Alcune armature ti bloccano la magia Quindi sprechi più mana utilizzando le magie Oppure quelle che ti danno Proprio quelle fatte opposta per il mago che ne usi di meno Oppure potete fare un po' un po' Quindi dipende sempre da che classe vi volete fare Parlando delle skill, ci sono tantissime skill passive E quelle attive che voi dovete utilizzare Alcune costano punti abilità Ci sono tre punti abilità che sarebbero punti svolta Ci sono solo tre punti svolta Quindi dovete riuscire a capire bene Ad utilizzarle bene Quindi magari voi il primo personaggio Ve lo giocate un po' alla katsum Per capire un po' come funziona il gioco Perché poi vi creerete un altro personaggio Che dopo che voi avete capito come funziona il gioco Ad esempio io adesso ho circa 43 ore di gioco E andando avanti adesso dopo 43 ore di gioco Ho capito molto bene come funziona il gioco Quindi potrei già farmi un personaggio Tutto dedicato su qualcosa Gestirmi bene i miei punti svolta eccetera Però in sostanza funziona così Il vostro primo personaggio sarà quello con cui capire il gioco E il secondo sarà quello dove voi andate avanti E ve lo gestite come volete Allora praticamente ci sono anche quattro zone da esplorare C'è la penisola Che è quella di base Dove voi partite che avete la vostra casa Che è il faro Poi c'è la foresta di Enmerark Mi sembra si chiami così Poi c'è Ambrasara Ambasara vabbè il deserto E poi c'è la palude Quindi queste sono le zone giocabili La penisola ha le stagioni C'è già inverno e quella non inverno Quindi inverno, estate, ottuno Dipende che cosa ci vogliono dire gli sviluppatori Però c'è solo quello, c'è la stagione E c'è solo l'inverno Mentre nelle altre non ci sono stagioni Quindi nella penisola voi avete l'estate e l'inverno Mentre poi nel deserto ovviamente è ultracaldo E poi nella foresta e nella palude è normale Quindi potete stare con qualsiasi vestito addosso Parlando di vestiti quindi Ci sono i vestiti pesanti Ci sono dei punti ovvero la resistenza al caldo e la resistenza al freddo Quindi c'è proprio un vestito ultra pesante per l'inverno Mentre poi c'è un vestito leggero che è la tunica del deserto Ed è fatta apposta per stare nel deserto Però ovviamente ci sono anche altre vestiti che magari te ne danno un po' di meno Però mi pare una volta arrivati a 35 di protezione dal caldo o freddo Non dovreste avere problemi Poi ci sono altre skill che vi danno di base un 8% Cioè un 8 punti in più di resistenza al calore e al freddo Quindi basta sempre vedere per bene i addestratori che cosa vi danno Quindi dipende dalle città Comunque a Cierzo che è la città quella principale C'è un solo addestratore Che vi dà vita mi sembra Lui più altre abilità molto interessanti Poi andatevi a vedere bene tutti Prima di decidere quale spell utilizzare Io personalmente vi consiglio di andare nella palude Lì c'è tipo colpo perfetto Colpo perforante E altre cose che sono molto Molto utili Li fanno veramente male E utilizzano l'energia Non mana E poi vabbè ci sono le altre Ad esempio c'è un'abilità Che voi col vostro zaino Lo dovreste buttare per terra Perché ci sono alcuni zaini Che ti bloccano la schivata La schivata praticamente Rotoli Ed è come Dark Souls Che c'ha il Fatroll Quindi se voi avete uno zaino Che vi blocca la schivata Siete in Fatroll Quindi schivate molto Rotolate molto più lentamente Però buttate giù lo zaino Rotolate Ma c'è una skill Che vi leva questa cosa E la trovate nella città del deserto Nei bassi fondi E questa costa un punto svolta Quindi già con quella che vi ho detto prima Della palude Questa ne avete già spesi due È molto utile Perché magari se avete Le pozioni dentro il vostro zaino E per fare un combattimento Dovete buttare giù E magari avete già utilizzato Lo spazio nella vostra tasca Vi fa comodo insomma Quindi più o meno questo È come funziona Poi le skill Voi le comprate Ok Non avete XP O altre varie cose Tipo anime Come Dark Souls O XP come qualsiasi gioco normale E i punti abilità Tipo che nei giochi normali Aumentano Ogni volta che voi Aumentate di livello Qui avete solo tre punti Svolta personaggio Pagate le skill Con i soldi Ci sono tre sezioni La sezione in basso La sezione in mezzo Che è quella che può costare Il punto svolta Per poter sbloccare Poi i punti Cioè le skill Della sezione sopra Quindi la sezione sotto Costa 50 Poi 500 E anche 600 Quindi costano tanto In monete E le monete sono facili Cioè inizialmente voi Non riuscite a farne tante Perché innanzitutto Quando voi partite Avete un debito Di 150 monete Ma che potete Optare a questa cosa Richiedendo un favore Ricevendo un favore Ovvero Andate nella spiaggia Ad ovest Di Cierzo Ad ovest Della penisola C'è uno che vi chiede Qualche cura Gli date una benda Lui vi da Questa pergamena Con il favore Tornate Parlate Non dovete spendere 150 Quindi almeno qua Vi risparmiate 150 monete Che inizialmente Sono super super utilissime Però Inizialmente Nella penisola Sarà difficile Fare soldi Perché le cose Che droppano Valgono 5 O 6 Invece nel deserto Iniziano già a droppare Cose da 70 A 60 E poi ci sono tanti Mob che ti droppano Anche oggetti Da 900 800 silver I silver pesano tantissimo Però c'è questa cosa Ganza Che voi comprate Dai mercanti I gold I lingotti d'oro Che costano 100 E li rivendete A 100 E pesano molto meno Dei soldi Quindi voi Avete Magari Come c'ho io C'ho 8500 Monete Mi pare Ma ho 85 lingotti 8500 monete Peserebbero più di 100 Mi sembra E invece c'ho 8.5 di peso Con Quindi ho 8000 monete A 8 di peso Per dirvi Quindi più o meno Questo È La parte Skill Il gameplay Che c'ha Il combat system È alla Souls like Quindi voi Targetate Il nemico Fate le schivate Parate Insomma Chi ha giocato A Dark Souls Comunque lo vede Si vede che comunque Dietro c'è Quest'idea Di un Souls like In combattimento Comunque Il target E i movimenti Ricorrono Molto a Dark Souls È molto bello Anche il fatto Che voi vi dovete Preparare il campo Di battaglia Ciò significa C'è più di un nemico O un solo nemico Ma molto forte Voi vi piazzate Le vostre trappole Le vostre trappole A pressione E ci mettete Gli spunzoni In quelle A filo Oppure ci mettete In quelle Che a pressione Tipo Il fuoco Gli mettete Il gas nervino Il veleno E quindi Diventa figo Anche prepararsi Per il combattimento Quindi gli mettete Tutte anche le trappole E loro ci vanno Sopra Si indeboliscono E siete pronti Per finirli E c'è anche un'abilità Sempre Nel bassifondi Dove prendete quella Per poter rotolare Con qualsiasi zaino Che vi fa raccogliere Tutte le Le vostre Trappole a pressione Quindi Solitamente voi Una volta che qualcuno Ci è passato sopra E' finita Basta Finella Dovete Dovete riutilizzarne Una nuova Invece li potete Poi raccoglierla E quindi Ci sono tante cose Molto belle In questo gioco E' davvero Fico Allora Poi ci sono delle Meccaniche carine Molto semplici Tipo La cucina Il crafting E L'alchimia La cucina Funziona Con la pentola Quindi voi mettete Il campfire Sopra Ci mettete Un pentolino E potete Craftare Cibi Più complessi Invece se mettete Solo il fuoco Avete solo Uno slot Di Crafting Tra virgolette Quindi voi potete Solo cuocere La carne Invece se mettete La pentola Avete fino a 5 E Poi avete un sacco Di ricette E ogni cibo Da Delle Anche dei bonus Come se fossero Delle pozioni Tipo vi da resistenza Al calore C'è la pozione Che vi da resistenza Al calore Vi da Disciplina Disciplina È una cosa Che potete avere Con una skill Vi da rabbia Che potete avere Comunque una skill Che c'è Vi da la rabbia Tipo un La carne Di La carne alfa Voi la mettete Insieme al pane Vi fa 3 panini Quindi voi avete 3 possibilità Di rabbia Invece che Una Come Con la skill Quindi Basta sempre Leggere Ogni cibo E anche Ogni pozione Che cosa Vi fa E Già lì Avete fatto Il 50% Del gioco Ecco Poi c'è Il mana Ne avrei dovuto Forse parlare Un po' All'inizio Però comunque C'è il mana Ogni punto Che voi mettete Al mana Vi toglie Della vita E del E dell'energia Quindi la stamina Ogni Punto Di mana Vi da 10 Di mana Quindi vi leva 5 di energia E 5 di vita Ed è una scelta Permanente Però Magari voi mettete Solo un punto Giusto per provare E se Non vi piace Avete speso solo 5 da una parte E 5 dall'altra Però se vi piace Potete comunque Tornare A rimettervi Qualche punto In più Poi ci sono anche Per optare A questa cosa E avere anche Più mana Ma comunque Tanta energia E vita Ci sono le skill Che vi danno Più 40 di vita In più O più 40 di Di energia In più Però anche queste Costano punti svolta Quindi per questo Il primo personaggio Sarà quello che A voi servirà Per capire bene Il gioco e le skill Quindi più o meno Ragazzi Questo è il gioco In breve È molto bello I dungeon Sono molto ganzi Da fare Ogni settimana In game Respawnano Mob E Gli oggetti Nelle casse Quindi voi Ogni settimana In game Potrete Ritornare A fare il dungeon Per poter magari Ritornare A quella cassa Che potrebbe essere Qualcosa di molto Interessante Quindi Anche qui Anche questa meccanica Che ogni settimana Si ricaricano Le cose È molto bella Quindi non è che Voi andate Finisce lì Basta Fine È molto bella L'esplorazione Ganza Sembra che ci voglia Tanto arrivare Da un punto all'altro Invece non è così E ogni volta Che voi vi dovete Spostare Da un punto all'altro Vi servono Le razioni Da viaggio Che voi potete Craftare Molto facilmente Mi sembra Con Tre cibi E un E un pezzo Di sale E vi fa Tre razioni Che tipo Per spostarvi Da una zona all'altra Avessero tipo Tre o quattro E così via Quindi Quelle vi serviranno Per andare Da una zona all'altra Come ottimizzazione Non è perfetto Io con un i7 7700k Una 1080ti E 16gb di ram E Un Un ssd 870 evo Da un tera Giusto per capire comunque Come carica Di Delle cose È molto veloce È un m2 Ogni tanto mi va anche a 40fps In dei punti Tipo guardo delle zone Magari che c'è tanta roba E Mi scende anche a 40fps Però Io ci gioco adulto Tra in 2k Quindi più o meno L'ottimizzazione Non è perfetta Però sicuramente La sistemeranno Sono un team di 10 persone E comunque hanno fatto Un lavoro egregio Cioè Outworld è bellissimo Cioè Non mi sarei mai aspettato Che un team di 10 persone Riuscisse a fare un gioco Del genere Io ero un po' titubante Però ho detto Boh vabbè dai Lo compro Perché un mio amico Mi ha convinto Ed è veramente Veramente bello Costa 40€ 40€ Secondo me Sono comunque tanti Perché ti vendono Praticamente Il prodotto al prezzo Finito Ma in early access Perché poi Penso aggiungeranno DLC e tante altre cose E io gli avrei dato Un 20-25€ Come prezzo E poi una volta Finito L'avrei aumentato Come hanno fatto In tanti Però Magari Visto che sono Solo in 10 Ed era un gioco Azzardato Hanno messo 40€ Però 40€ Molto ben spesi Molto ben spesi Ma sono comunque Tanti per Outworld 40€ Però se Avete 40€ E questo gioco Dopo questo video Vi ispira ancora di più Spendeteli Fatelo Perché Non Non ve ne pentirete Perché poi C'è la coop Da Due persone Ma c'è Una mod Che la sblocca Fino a 32 Quindi Vi mettete questa mod La mettete a 4 player E giocate in 4 Oppure La mettete a 32 Se siete Youtuber Molto più famosi Di me E quindi Riuscite a fare entrare 32 persone Però Già in 2 è molto più facile In 4 sarà ultra facile In 32 Vabbè Vaffanculo E c'è anche lo split screen Quindi lo comprate C'è il vostro fratello Volete giocarci con qualche amico A casa Lo potete fare Piena Function Del joystick Quindi Non c'è da lamentarsi Via Sono pochi i giochi Che ultimamente Negli ultimi 4 anni Mi hanno lasciato Attaccato Di notte Nonostante il lavoro Presto La mattina dopo La grafica La gente dice Siamo tornati in 15 anni Ma io penso Le persone Che sono tornate indietro Di 15 Che dicano questa cosa Non hanno mai giocato A un videogioco Comunque In descrizione Io vi lascio La mia recensione Fatta su steam Quindi se vi interessa Ve l'andate a leggere Perché l'ho scritta Un po' più Un pochettino più dettagliata Ma sempre un po' alla lunga C'è alla lunga Alla Alla cazzo Ma però Un po' più ordinata Quindi se magari Non avete capito Un cazzo qui Andatevelo a leggere Tutto in descrizione Quindi niente Siamo Un video forse Di quasi 20 minuti Va bene Per questo Per questo gioco Quindi niente Io vi ringrazio Veramente Veramente Tanto per la visione Spero che questo video Vi sia stato utile Se lo è stato Fatemelo sapere Magari sotto in descrizione Se avete qualche domanda Fatela pure Senza problemi E magari Se lo comprate E volete giocare insieme Entrate nel mio Discord Che ci divertiamo Quindi nulla Di nuovo Vi ringrazio per la visione E spero che siete arrivati Alla fine Di questo video E alla prossima Ciao ciao